Se resterò nel ciclismo vedremo strada facendo ma io già sto facendo altro, un negozio di bici, costruisco bici quindi sto facendo altro. Parole che suonano già da ex quelle di Danilo Di Luca all'uscita dagli uffici della procura antidoping di Roma. Appena terminata la sua audizione sono passati parecchi giorni, le cose poi si affievoliscono, ha quindi aggiunto Di Luca. Ora vado in bici, gioco a tennis, corro e nuoto, faccio parecchie cose, quelle che non potevo fare prima da professionista. Interrogato dal vice procuratore Mario Vigna, il ciclista abruzzese doveva rispondere in merito alla sua positività all'epo riscontrata il 29 aprile 2013 in un controllo antidoping disposto fuori competizione dall'Unione Ciclistica Internazionale. Ci si attendeva una durata maggiore e invece la sua audizione è durata neanche un'ora. A quanto si apprende, Di Luca non dovrebbe aver collaborato. Il procuratore Vigna è stato molto professionale, ha spiegato Di Luca. Abbiamo parlato ma non posso dire cosa ho detto. Se ho fatto ammissioni, non lo posso dire. Accompagnato dal suo avvocato Ernesto Detoni, Di Luca ha preferito evitare messaggi da recapitare ai tifosi. Per ora non voglio dire nulla, ha aggiunto. Nessuna replica infine in merito alla lettera aperta del suo ex sponsor e del presidente del gruppo farnese Valentino Sciotti che ieri aveva invitato Di Luca a collaborare per il bene del ciclismo. L'ho letta ma meglio non parlare e aspettare i tempi giusti per farlo, ha concluso Di Luca. Per il corredore di Spoltore, vincitore di un Giro d'Italia nel 2007, della Liegi-Basto-Liegi e di un Giro di Lombardia, non è il primo caso di doping. Essendo già stato squalificato per la sua frequentazione con il medico inibito Carlo Santuccione e successivamente per essere stato trovato positivo al sera nel 2009, per questo squalificato a due anni, pena poi ridotta a nove mesi per aver collaborato. Una recidività che in attesa del probabile rinvio a giudizio davanti al Tribunale Nazionale Antidoping potrebbe costare al ciclista una richiesta di pena esemplare da parte della Procura. Si parla addirittura di circa 12 anni di stop.